Cercasi ancora una location definitiva per i cavalli di Mimmo Paladino, adesso l'assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi avanza all'artista due ipotesi, il bastione cornelliana sul Faxal o il fossato di Palazzo Farnese. Le 18 sculture in vetro resina erano state esposte davanti a Palazzo Gotico nell'ottobre del 2020, dopodiché lasciate in disponibilità alla fondazione di Piacenza e Vigevano, ora risultano chiuse in un deposito in città da oltre un anno, in attesa appunto di una ricollocazione che finora non è stata individuata, non a caso il celebre autore Campano, interpellato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, si è detto intenzionato a chiedere la restituzione dell'opera. L'assessore prova dunque a ricucire lo strappo attraverso due idee di posizionamento dei cavalli, sottoposte all'entourage di Paladino nelle scorse ore. La prima riguarda le mura farnesiane di Piacenza, le sculture potrebbero essere installate nell'area verde sul bastione cornelliana, ben visibile dai tanti pedoni lungo il viale, ma anche dagli automobilisti di passaggio in via 4 novembre, come sottolinea Papa Marenghi. Nel 2007 il bastione cornelliana aveva già ospitato un'opera d'arte, cioè la scultura di Giorgio Gruppi, raffigurante proprio un cavallo. La seconda proposta dell'assessore è rivolta al vallo della cittadella Viscontea, ovvero il fossato di Palazzo Farnese. In entrambi i casi probabilmente occorrerebbe intervenire sulla struttura dell'installazione. La spesa totale ammonterebbe a circa 40.000 euro. A sostenerla, qualora l'ipotesi andasse in porto, sarebbe la fondazione di Piacenza e Vigevano, che è il soggetto utilizzatore a cui l'autore ha lasciato l'opera in maniera gratuita, allo scopo di valorizzarla in un'area da concordare con il Comune.